Radio streghetta l'oroscopo Non fidatevi di chi vi sorride con troppa facilità Sul lavoro i colleghi vi parleranno alle spalle ma dovrete essere forti e ignorarli In amore una situazione esterna rischia di allontanarvi dal partner Attenzione Gemelli Vi sentirete stanchi, la grande fiacchezza sarà mitigata dall'enorme felicità suscitata dal frutto del vostro duro lavoro La famiglia e tra amici riceverete consenso e ammirazioni ma non mancherà qualche critica trascurabile In amore il feeling mentale supererà quello fisico che per un po' sarà forzatamente assente Cancro Oggi sentirete la forza sprizzare da tutti i pori e sul lavoro i colleghi non terranno il vostro ritmo e ciò provocherà una lieve maressere che risolverete tutto con un sorriso In amore un incontro vi porterà in orbita Leone Noie con i mezzi di trasporto qualcosa non andrà per il verso giusto e rischierete di essere ostacolati da un veicolo Dovrete fare affidamento su voi stessi e cercare di non dipendere da nessun altro per evitare brutte sorprese In amore una serata totale relax farà scordare una giornata bizzarra Vergine Non potrete sottrarvi a una scelta Vi troverete in una situazione che vi costringerà a prendere una decisione netta In amore cercate di essere diplomatici Bilancia Alti e bassi vi ritroverete su un ottovolante di emozioni che riuscirete a dominare solamente grazie alla vostra freddezza In amore i pensieri saranno rivolti altrove Scorpione Qualche intoppo di troppo Nonostante le difficoltà vi renderete conto che le cose importanti sono ancora intatte In amore cercherete di spiegare le vostre ragioni Sagittario Troverete una soluzione a un piccolo intoppo sul lavoro ma poi un sorriso darà la svolta positiva e una giornata apparentemente negativa In amore lo stress del partner vi contagerà Capricorno Ognuno per sé vi ritroverete in una situazione che sa tanto di sfida personale che proprio per questo desidererete vincere In amore riuscirete ad apparire brillanti Acquario Si aprirà una nuova fase in abito lavorativo La vostra solerzia riuscirà a colpire positivamente una persona che vi manifesterà tutta la sua approvazione In famiglia qualcuno avrà bisogno del vostro parere in merito a una questione molto delicata In amore la speranza vi porterà a guardare le cose solo dal vostro punto di vista Pesci Tutto risplenderà in modo incredibile pieno di bellissime novità nell'ambito E tenetevi forti Amore Si Una notizia clamorosa sta per arrivarvi Una freccia al cuore vi colpirà Tutto tondo il mondo insomma vi apparirà Riscoprendo tutto l'amore che magari pensavate adesso Come se fosse diventato un po' piatto Senza emozioni Ma così non è Ve ne accorgerete